Chissà se nello spazio siamo soli, oppure c'è qualcuno che non vediamo, alieni, ma la vera domanda è... Chi ha colorato i memes? Chissà se nello spazio siamo soli, oppure c'è qualcuno che non vediamo, alieni, ma la vera domanda è... Chissà se nello spazio siamo soli, oppure c'è qualcuno che non vediamo, alieni, ma la vera domanda è...